Ieri sera, poco prima delle 20 e 30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Ortigara a Roana, in provincia di Vicenza, per l'ingegno di una canna fumaria di una tipica abitazione di montagna, danni a due appartamenti. I pompieri, intervenuti da Asiago mentre stavano ultimando un altro intervento, Schio e Vicenza, con due autopompe, due autobotti e l'autoscale e 12 operatori, sono entrati nell'appartamento al primo piano dove il bagno era invaso dal fumo. Dopo alcune verifiche si è appurato che le fiamme sono divampate all'interno di una canna fumaria in acciaio a servizio di un caminetto posto in un caverio. Il forte calore ha anche innescato la combustione di una trave in legno del solaio che è stato necessario tagliare. L'incendio ha anche interessato i tubi di scarico dei fumi della caldaia del piano terra dove si è sviluppata un'altra combustione che ha provocato gravi danni da fumo all'appartamento al momento disabitato in quanto seconda casa. La famiglia del primo piano, che si trovava in vacanza, ha trovato ospitalità per la notte da alcuni parenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate in mattinata intorno alle 4 dopo il controllo emesso in sicurezza di tutta la struttura.